Paolo Arigoni, i piccoli comuni vengono al Senato perché in questo momento veramente non ce la fanno più. In questo momento il governo non gli aiuta, si va a rivalo IUC, la Tares a fine anno, non si sa ancora bene cosa bisogna fare sul limo. Insomma, una risposta è urgente e bisogna darla subito. Assolutamente sì, due pesi, due misure. Sono maggiormente tuttilati i grandi comuni, i piccoli comuni invece sono enormemente penalizzati. Hanno dovuto quest'anno affrontare il problema della Tares che ha comportato un lavoro incredibile per gli uffici tributi. Tares che scompare, che è apparsa solo quest'anno e ricompare e entra dalla finestra dopo essere uscita dalla porta con la IUC, l'imposta unica comunale che riporta in sé comunque l'imuno a tassa sulla prima casa. L'IMU rimane ufficialmente sulle seconde case, sui capannoni, sui negozi, ma attraverso la TASI, la tassa per i servizi indivisibili, rimane ancora sulla prima casa. Quindi nel 2014 rispetto a quest'anno 2013 i cittadini pagheranno in più sulla tassa per la casa e sugli immobili in generale 4 miliardi di euro, che non sono poca cosa in una situazione dove famiglie, imprese, ma anche comuni non ce la fanno più tirare avanti. Senza dimenticare il pasticcio del governo sulla seconda rata dell'IMU che non si capisce bene ancora cosa succederà. Sì, perché a quanto pare l'IMU sulla prima casa come parola non scompare dal vocabolario come aveva promesso Alfano. Al 16 gennaio rimane una mini-IMU per quasi 2400 comuni, un pasticcio enorme che si aggiunge alla mancata copertura, per esempio sull'eliminazione della prima casa. Mancano tanti soldi e qui probabilmente pagheranno le imprese attraverso la clausola di salvaguardia. Quindi l'ennesimo pasticcio, noi abbiamo chiesto al governo come Lega Nord in occasione della riforma degli immobili di fermarsi un attimo a riflettere, invece con la legge di stabilità, ponendo la fiducia su un testo che aveva solo 6 ore di vita, c'è stato precluso la possibilità di discuterlo, di migliorarlo e i risultati si stanno venendo. Vedendo l'ennesimo pasticcio di questo governo Letta, che segue i tanti pasticci sulla casa, perché sono stati introdotti dal governo Monti queste cose che hanno penalizzato molti cittadini.